I fondi ci sono già, non devono arrivare, non devono essere richiesti, sono già lì depositati, il progetto è fatto, non manca nulla. Un progetto, quello di costruire la pista ciclabile ad un metro e mezzo di distanza dalla ferrovia Fanurbino, il cui ITER era già avviato e di 4 milioni e mezzo di fondi già disponibili, ma la cui realizzazione, dopo le recenti dichiarazioni dell'assessore regionale alle infrastrutture pubbliche Francesco Baldelli, è messa a repentaglio. È preoccupata FIAB Marche che, in risposta, lancia sulla piattaforma digitale Change.org una petizione rivolta al presidente della regione, Francesco Acquaroli, dove in 50 punti sono ribaditi tutti i vantaggi del progetto e le richieste, che vanno dalla maggior sicurezza per i ciclisti, come affermano Marco Roscini e Giuseppe Panaroni di Forbici, FIAB Fano, alla riduzione delle auto in circolazione. Siamo preoccupati perché negli ultimi tempi è venuta fuori questa dichiarazione, secondo la quale la pista ciclabile verrebbe fatta a 5 metri di distanza dai binari, modificando quella che era in precedenza la indicazione a un metro e mezzo. Se fossero 5 metri in media potrebbe andare bene, però se questo è un termine assoluto no, perché le distanze non ci sarebbero. C'è una strada già tracciata che è questa che solo, eventualmente in un futuro non immediato, potrebbe essere ripristinata come treno solo turistico per alcune giornate all'anno e quindi lasciando libero il sedime che verrebbe consolidato a disposizione di chi vuole muoversi in bicicletta o a piedi. Spostare la linea di 5 metri, afferma Leonardo Zanna, significa boicottare il progetto. In questo modo si rischierebbe di trovare sul percorso circa un centinaio di case e bisognerebbe abbatterle. Con la realizzazione della ciclabile avremo solo cose positive, una trattante continua, la fibra ottica che con un solo permesso potrebbe essere installata lungo la ciclabile, creando una vera e propria autostrada informatica. Le case lungo la Flaminia valgono molto poco, perché i portoni, gli ingressi delle case sono al raso della Flaminia, di conseguenza molto pericolosi. Le madri vivono sempre in apprensione, quando i figli escono di casa non possono uscire da soli. Dietro avrebbero la pista ciclabile, che potrebbe essere un elemento di connessione unico, estremamente sicuro, fra i vari paesi della zona, Cucurrano, Calcinelli, Serra Ungarina e tutto il resto. Domenica scorsa è stata inaugurata la linea treno più bus da parte delle ferrovie dello Stato. Un unico biglietto che c'è scritto sul giornale da Ancona, per esempio, con 8 euro e mezzo, si va a Pesaro. A Pesaro c'è la coincidenza, sono 30 coincidenze al giorno, che porta direttamente in 40 minuti a Orbino. Orbino ascensori vuol dire praticamente centro d'Urbino. Visto il panorama anche molto bello, la tranquillità della zona, non ci sono grossi attraversamenti, c'era soltanto uno, quindi potrebbe essere una cosa che serve anche per il rilancio turistico della zona. Quindi i carrelli ferroviari da Urbino in discesa fino a Fermignano, quindi noi saremmo favorevoli. Come pure ha una navetta, un treno navetta, che parte da Fermignano a Urbino e viceversa per il collegamento tra i due centri urbani. Grazie. 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 Grazie.